La giustizia è fatta da persone e ci sono degli avvocati che sono in grado di entrare in quelle aule ed urlare e lanciare la toga così come faceva lui per battersi e per far valere i nostri diritti. Simone Menichetti, segretario generale WISP Roma qui a Corri con Stefano. Qual è il senso della presenza WISP e della giornata, Simone? Nel senso della nostra presenza ovviamente è l'accodarci alla battaglia di Ilaria, della sua famiglia per il diritto alla verità su quanto accaduto a Stefano. Dove c'è la richiesta di diritti ovviamente c'è la WISP, ci deve essere la WISP che dal 1948 fa questo, insomma cerca di richiedere diritti, diritto allo sport, al movimento, al gioco e quindi questa partnership diciamo ci è venuta semplice con l'associazione Stefano Cucchi. Il bilancio è estremamente positivo anche grazie al buon meteo, insomma abbiamo avuto tante presenze, tante presenze di associazioni, tante presenze di persone a correre e quindi siamo contenti insomma di aver contribuito con il nostro oggi. No! No! Però